Monitoraggio di un'applicazione con Prometheus e Grafana all'interno di un cluster Kubernetes. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a fare il setup di un piccolo ambiente con applicazione che verrà monitorata, Prometheus per raccolta delle metriche e sistema di alerting e infine un Grafana per la visualizzazione dei dati tramite dashboard. Prima di entrare nell'ambiente di sviluppo e vedere il codice e le configurazioni, vediamo velocemente, ho fatto questo abbozzo di architettura dove siamo all'interno di un cluster Kubernetes, abbiamo la nostra applicazione che si chiamerà Monitored Application che è già utilizzato per l'esempio del Docker Compose che metto qui in descrizione, che espone un endpoint barra metrics dove abbiamo un Prometheus che girerà nel suo pod e andrà a fare lo scraping, sempre con un'apposita configurazione sull'endpoint metrics di questa applicazione e poi andiamo a visualizzare il tutto con l'installazione e il deployment di un Grafana e la configurazione di lettura di dati da Prometheus. Questo è un setup semplificato con tutte le impostazioni più semplici possibili, giusto per prendere confidenza con quelli che sono gli oggetti di un cluster Kubernetes e se comunque è un'architettura semplice di monitoraggio. Eccoci nell'ambiente di sviluppo e andiamo a vedere, andiamo a commentare quello che ho fatto e andiamo assolutamente anche a provarlo. Quindi prima della teoria vi dimostro che tutto subito funziona e poi andiamo a spiegare passo passo. Ho dichiarato qui nella cartellina di questo repository che poi metto disponibile, anzi è già disponibile su GitHub, link in descrizione, ho creato questa cartella k8s che è etel Kubernetes che contiene i file, i manifest che utilizzerò per dichiarare tutte le mie varie risorse e ciò di cui ho bisogno per implementare l'architettura che abbiamo visto prima. In particolare l'ho divisa così con le risorse per Grafana, per la mia applicazione da monitorare e per Prometheus. lancio subito kubectl, apply-f e lancio tutta la cartella e andiamo a vedere che si crea. Giustamente non ho aperto Docker Desktop, per cui facciamo partire Docker Desktop. Ora il cluster è attivo, ridiamo il comando. Ecco che vengono create le risorse che tra poco andiamo a commentare. Facciamo subito un giro di prova, apriamo una scheda in private del browser, andiamo a vedere e facciamo localhost, specifico HTTP, non ho gestito la questione di HTTPS anche per questioni di certificati e così via. Quindi l'applicazione risponde ed espone l'endpoint matrix. Prometheus, togliendo la S qui, eccolo qua, questo è l'endpoint matrix dove Prometheus andrà a fare il suo scraping. Andiamo a vedere se Prometheus ci risponde, che sta su porta 90-90, è up and running, andiamo a vedere la configurazione dei target, sta leggendo correttamente l'endpoint matrix, che ha letto tot secondi fa le statistiche. Infine andiamo a vedere se l'ultimo componente della nostra catena ci risponde correttamente. Abbiamo su porta 3000, in localhost abbiamo un grafana, faccio admin, admin, è il primo avvio che è del cambio password, che cambio, dopo faccio vedere come ho gestito anche la persistenza del dato, per esempio della configurazione qui su grafana, e posso, andiamo a configurare velocemente la data source, faccio una data source, Prometheus, metto l'indirizzo di Prometheus, scritto ttp, due punti, barra barra, vado a vedere il nome del servizio, che all'interno di Prometheus è stato esposto come Prometheus Service. Mi prendo il nome, lo metto qui e specifico la porta, che dovrebbe essere 90-90. Faccio save and test, la connessione è correttamente funzionante, posso provare ad aggiungere una dashboard, dove aggiungo un qualcosa che proviene da questa source, e posso prendere una metrica HTTP request received total, ok, run query, e ok, vi faccio vedere che ho ricevuto tot richieste HTTP in totale, il grafico comincia a popolarsi, i dati vengono letti. Con questo abbiamo dimostrato che l'architettura sta in piedi, tutte le componenti partono correttamente e dialogano tra di loro, ma andiamo a vedere come ho fatto. Innanzitutto, l'applicazione qui che è monitorata è un'applicazione .NET, che ho commentato un po' più nel dettaglio nel video precedente dedicato a Docker Compose, ma sostanzialmente il trucchetto qui è stato quello di utilizzare il pacchetto ufficiale di Prometheus per raggiungere gli endpoint e la collezione delle metriche, e in particolare questa riga di codice nello startup dell'applicazione. Ma il dettaglio qui non è più applicativo, ma un po' più infrastrutturale, quindi partiamo con l'analisi di quello che è Kubernetes. La mia applicazione, partendo dalla base della nostra architettura, quindi andiamo dalla nostra applicazione, come ho fatto? Ho creato un file manifest, un file YAML, che dentro mi definisce un deployment, quindi va a descrivere come voglio che sia, per così dire, installata la mia applicazione all'interno del cluster, quante istanze, che porte devo esporre, e così via. Gli ho dato un nome a questo deployment, l'ho chiamato monitor ed app deployment, e ho configurato i selector, quindi match label, app e monitor ed app, e il template dei miei container, i miei pod che vado a creare, appunto hanno ovviamente le label app e monitor ed app, se no non si agganciano correttamente al deployment, e poi i container che vado a creare, prende l'immagine della mia applicazione .NET arricchita con l'endpoint matrix che ho pubblicato su Docker Hub, espongo le porte 80 per l'http e la 443, anche se effettivamente poi non ho utilizzato, passo le variabili d'ambiente e metto, non ho fatto dei grandissimi conti, sono andato con dei valori abbastanza di default, anzi è sicuramente enormi, resource request e limit, a parte i valori che sono sballati, è comunque una best practice definire sempre, request and limits, sia di memoria e CPU all'interno dei deployment Kubernetes, così istruiamo lo scheduler di quante risorse, e come si dovrebbe comportare la nostra applicazione. Infine espongo l'applicazione all'interno del cluster, con quello che è un servizio, che mi permette di configurare le regole di networking dei pod, e lo chiamo monitor ed application, faccio un load balancer, non faccio un cluster IP, perché voglio poter accedere dall'esterno, e quindi poter scrivere localhost porta, ed entrare nel mio sito, e voglio vederlo, ovviamente non avrebbe senso per questo demo, mettere un cluster IP, che esporrebbe i miei pod, solo all'interno del cluster, e non ci potrei accedere da fuori, e ovviamente poi espongo porta 80 e 443, quindi con questo file, facendo un kubectl apply-f di questo file, vado a installare tutto quello che è, a configurare tutto quello che è la mia applicazione da monitorare. Andiamo di ragionamenti simili con Prometheus, dove qui vado a fare però una cosina in più. Prometheus ha bisogno di una configurazione passata, in un file di configurazione YAML, che si deve trovare in una determinata cartella, che è etc.prometheus, come da specifiche ufficiali dell'immagine, e si deve trovare lì dentro il file di configurazione da leggere in avvio, con tutte le configurazioni degli endpoint, di cui fare lo scraping, le tempistiche e così via. Per passare un file di configurazione a un container, nel mondo Kubernetes, ho utilizzato quello che è una config map. Una config map permette di mappare, di creare, di definire un file, che viene montato su quello che è all'interno del container, e quindi poi effettivamente letto dall'applicazione che ne hanno bisogno. Quindi le prime righe sono di definizione di questa config map, che prende il nome di prometheus config map, è un nome che utilizziamo per riferirci a questa config map da altre risorse, non il nome del file con cui verrà montato. Il nome del file con cui lo troveremo all'interno del container è questo, prometheus.yml, e poi qui ne vediamo il contenuto in formato base64. Quindi la domanda è d'obbligo, ma come hai fatto a creare questa stringa in formato base64? Beh, ho utilizzato Kubernetes stesso. Con questo comando qui sopra, kubectl create config map, gli ho dato il nome, poi l'ho cambiato, sarebbe stato più giusto fare così. From file, e gli ho dato un file di configurazione di prometheus, che io avevo già utilizzato, per esempio, per il tutorial precedente su docker compose, e che ce l'ho qui dentro. Da qualche parte, eccolo qui, promconfig, questo qui è il file di configurazione di prometheus, dove io gli dico il target, e il target avrà il nome del servizio della mia applicazione, monitor ed application. Questo qui corrisponde con il nome del servizio di monitor ed application, che è il nome con cui si risolve all'interno del cluster, a livello di networking. Quindi, tornando qui, questo file, io l'ho tradotto in formato base 64, pronto in struttura YAML così, tramite questo comando. Meno o meno from file, ok? E poi non l'ho applicato, ma gli ho fatto un dry run output YAML su file di testo. Quindi con questa riga di comando, mi sono fatto creare dal cluster Kubernetes, senza applicarlo dentro il cluster, gli ho detto, dammi solo lo YAML, poi mi arrangio io, e l'ho salvato su file così. Quindi con questa righetta di comando, è stato creato questo. Dopodiché ho fatto il deployment di prometheus, con l'immagine ufficiale prometheus, ultima versione, ho esposto la porta standard di prometheus, 90-90, e qui ho fatto il volume mount. Quindi qui sono andato a definire, gli ho detto, sai che c'è? Ti monto la config map, prometheus, c'è config map, e volume, che è definita qui, e te la monti su etc prometheus, che è la cartella dove si aspetta la directory, dove prometheus si aspetta la configurazione. Di nuovo risorse copie incollate dall'altro, non era questo lo scopo di stare lì a fare efficienza, e i volumi, quindi i volumi di cui vado a fare il mount, mi prendo la config map. Quindi prendo name, il nome del volume, che io poi referenzio qui, ok, e questa config map dice, crea un volume che ha questo nome, che viene poi referenziato dal mount, e verrà montato in questo path, lo prendo, è una config map che ha questo nome, che fa riferimento a quello che abbiamo visto lassù, in alto. Poi dichiaro banalmente un servizio, per rendere disponibile e accessibile il pod, qui sarebbe la sua, sarebbe stato fare un cluster IP, magari, però siccome voglio, ho voluto accedere per scopi di demo, magari anche sì, soprattutto per scopi di demo, al mio, all'installazione del mio prometheus, l'ho messo in lodo balancer, che così con localhost 9090, ho potuto accedere al portale. Per quanto riguarda invece Grafana, ho sempre fatto un deployment, ma con qualche caratteristica in più, per quanto riguarda la specifica dei pod, in particolare, per quanto riguarda i claim per i volumi, per staticizzare, per persistere, o meglio, per persistere la configurazione di Grafana, e non dover ogni volta riconfigurare da capo, e vedremo un esempio. Come ho fatto, utilizzando, specificando i volumi, vi ho detto che creo un volume, che si chiama Grafana storage, questo è semplicemente un nome, che mi serve poi per referenziarlo qui, e utilizzo un persistent volume claim, quindi faccio un claim, cioè una richiesta al cluster, che si chiama Grafana pvc, persistent volume claim, che le caratteristiche sono definite sotto. Quindi vado a dichiarare, vado a chiedere un volume, con determinate caratteristiche, e lo monto su varlib Grafana, che è dove Grafana salverà il proprio database, e di configurazione. Per il resto, è poi tutto abbastanza standard, immagine di Grafana, porta 3000, e così via. Servizio di Grafana, Grafana SVC, di tipo load balancer, così posso accedere a Grafana, dall'esterno del cluster, per questa dimostrazione, e qui vediamo il persistent volume claim, cioè vado a dichiarare una richiesta, cioè voglio uno spazio disco di 512 MB, che possa essere montato su un singolo nodo del mio cluster. E nel caso non fosse presente, il cluster me ne creerà uno, e lo abbinerà al mio pod. Andiamo a vedere il tutto come funziona, e ci assicuriamo che il dato persista. Quindi io faccio un apply, viene creato il mio, qui, persistent volume claim, eccolo qui, è lui, Grafana pvc, e siccome è anche partito il pod che lo richiede, viene anche creato un persistent volume. Il persistent volume mi permette di fare una cosa di questo tipo. Entro dentro, alla mia prima volta di Grafana, ovviamente mi chiede il cambio password. Adesso cosa vado a fare? Vado a buttare via il deployment, kubctl delete-f, solo il deployment di Grafana. No, lo faccio qui, in questo file c'è tutto, lo faccio da qui. Grafana deployment, lo prendo e lo butto via. Delete, butto via l'intero deployment di Grafana, ma non ho buttato via, adesso vediamo il pod che muore. esatto, però rimangono il persistent volume, che mi è stato creato dal cluster in automatico, e rimane il claim. Quindi la mia richiesta, ok, di un volume per Grafana è rimasta viva, perché ho buttato via solo il deployment. E sta tenendo vivo questo persistent volume sottostante. Adesso vado a fare di nuovo l'apply di tutto quanto, e l'unica cosa che cambierà è che viene rideployato il mio Grafana. Ecco che io faccio F5, e vedete che ho anche ripreso la sessione. Posso fare il sign out, e fare admin con la nuova password, e non mi chiede il cambio password. Questo perché ho persistito la configurazione di Grafana tramite un volume. Bene, per oggi, per quanto riguarda il monitoraggio all'interno di un cluster Kubernetes con Grafana Prometheus, ci fermiamo qui. Se questo video ti è piaciuto, o hai imparato qualcosa, mi raccomando, metti un mi piace, e iscriviti al canale, così sarai notificato di nuovi aggiornamenti. Ciao, alla prossima!